All'Agrigento, all'Hotel della Valle, si è conclusa oggi la due giorni di un convegno sul tema controversia e nuovi scenari delle carcinoma della mammella, perché è necessaria una breast unit. Infatti, con i fondi di un progetto di piano sanitario nazionale, di cui è referente aziendale, l'oncologo Antonino Savarino, la direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha allestito all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì una chirurgia dedicata ai tumori della mammella, dove opera con un contratto di collaborazione professionale il professor Mario Mesiti, chirurgo, senologo, esperto. È stato così iniziato un percorso che dovrebbe condurre alla costituzione di una breast unit certificata EUSOMA anche all'interno della provincia agrigentina. È un momento importante per la nostra provincia, è un momento importante perché i tumori della mammella sono una patologia eterogenea e richiedono pertanto un'expertise particolare per il loro trattamento. In particolare, cos'è la breast unit? È un modello organizzativo che vede sostanzialmente mettersi insieme specialisti di branche differenti, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, lo psicologo, il medico nucleare, l'anatomo patologo, sono accomunati tutti dall'avere una formazione particolare nella gestione del tumore della mammella e questo gruppo che viene a formare la breast unit si occupa di creare un percorso che va dalla diagnosi alla terapia, un percorso di eccellenza per la gestione delle donne che si ammalano di tumore della mammella. Tenete presente che nella nostra provincia ogni anno ci sono almeno 260 nuovi casi di tumore della mammella e che questa incidenza è destinata ad aumentare e che si è assistito anche ad un aumento dell'incidenza nell'età più giovani. Proprio di recente almeno due casi di tumore della mammella ho diagnosticato e sono in terapia presso la nostra unità operativa in donne appena 26 anni. Tenete presente che quindi una donna, specialmente se è molto giovane, tente ad essere dollato nel momento in cui riceve la diagnosi terrorizzata per la paura di perdere la vita, ma dall'altro lato ha anche paura di perdere la mammella perché la mammella è un organo che è estremamente rappresentativo per la donna. La mammella significa essere donna, significa essere partner, significa essere madre e allora riuscire a fare la diagnosi precoce, riuscire a garantire una chirurgia conservativa ed esteticamente valida, riuscire a garantire la guarigione definitiva grazie alle terapie innovative. Cosa possibile grazie a una breast unit formata da specialisti con una formazione specifica nel settore, non può che essere un fatto di civiltà che noi dobbiamo regalare alla nostra città, alle nostre donne, alla nostra provincia. E quindi la breast unit deve essere già una realtà e non il futuro, deve essere un qualcosa che dobbiamo porre in essere il prima possibile. Devo dire che la direzione strategica aziendale in questo senso è stata veramente molto presente ed è illuminata, ha capito l'importanza di questo percorso, che è un percorso che va a vantaggio sia dai medici, perché si formano nell'immediato attraverso una formazione continua, lavorare insieme significa crescere tutti insieme e significa garantire percorsi di eccellenza, sia per la donna che ovviamente viene curata al meglio, ma anche per la nostra azienda che evita in questo modo una migrazione sanitaria che sino a un reggente passato è stata veramente molto alta, più del 90% delle nostre donne vanno a curarsi fuori. La breast unit abbatterà in modo definitivo questa migrazione. E la nostra azienda, proprio sensibile a questo tipo di discorso, grazie a un progetto, che è il progetto finalizzato alla Costituzione della breast unit, di cui io sono referente, che è stato finanziato con 900 mila euro da fondi di piano sanitario nazionale, ha fatto un contratto di collaborazione professionale col professore Mario Misiti, che è un chirurgo senologo dedicato, con un'esperienza trentennale nella chirurgia della mammella, che opera a Canicattì e che fa degli interventi conservativi, compresa la chirurgia dell'infonosentinella, ed esteticamente molto validi.